No, ne avevo dati di più. Porca troppo! Questo è stato lui. Ha un nome. Non riesco a ragionare con lui. Si scorda i nomi di film. No! No, mi stiga! Ma no, perché è iniziato a vedere. Amica! Mi ha fatto fare un giro. Mi stanno in internet con le scaffole. Ma non c'è nulla? No, non c'è nulla. Io dò tre giorni che avessi tratti. Si. Oh, ma non c'è nulla. e video posto no l'immagine abbiamo chiuso diciamo un po non non il Grazie a tutti.